Benvenuti in Bellesserem, anzi benvenuti a tutti quanti voi in Bellesserem, prego questo è il nostro showroom, siamo ben lieti di spiegarvi chi siamo, Bellesserem nasce nel 2015, 27 settembre 2015, questo è il nostro showroom, cominciamo da questa parte, abbiamo i nostri bravi profumi e quindi sono profumi particolari perché noi ci teniamo tanto alla artigianalità cosiddetta, perché facciamo i profumi col cuore, sono delle fragranze assolutamente inedite, molte delle quali hanno origine dai nostri oli essenziali, oli che non produciamo noi però chiaramente li acquistiamo, quindi acquistiamo degli oli essenziali veramente unici nel loro genere, ci teniamo tantissimo alla qualità, pertanto quindi ve li presento molto velocemente, profumi personali uomo don, profumi ambientali con le stecche, i nostri profumi ambientali spray e qui potete chiaramente divertirvi perché come potete notare abbiamo arancia e cannella, abbiamo liquirizia, abbiamo muschio bianco, abbiamo la lavanda, la mente, insomma tanti altri profumi, poi rientriamo nella parte che ha a che fare con i profumi da borsetta o da portafoglio come li chiamiamo noi, sono così piccoli, sono da 20 ml però diciamo che in determinati momenti fanno proprio al caso di chi ama profumazioni assolutamente inedite. la parte dei fitoterapici che hanno a che fare con il nostro cavallo di battaglia che poi vi presenterò, l'NMK3 del Buon Respiro, l'Olnima 1, un olio assolutamente polivalente, l'ultimo nato che già ci sta dando davvero grandissime soddisfazioni, il Solidol, un prodotto che combatte dolori muscolari e articolari, i nostri oli vegetali e poi ovviamente così come vi dicevo prima i nostri oli essenziali e qui ovviamente se venite nel nostro showroom potete ben comprendere che cosa sono gli oli essenziali, a cosa servono, come agiscono, dove sono utilizzati gli oli essenziali e quali azioni esplicano appunto questi oli essenziali che sono assolutamente benefici. Andando da questa parte ecco innanzitutto riprendiamo il nostro roll up che parla di bellessere, la cosmetica è importante perché ci teniamo in modo particolare affinché tutti sappiano che nei nostri cosmetici non ci sono siliconi, non ci sono parabeni, derivati del petrolio, selesse, coloranti, PEG e solubilizzanti sintetici e la nostra gamma è ben visibile su questa madia e possiamo magari notare addirittura l'ultimo nato, anzi l'ultima nata, la crema Aurora Plus e una crema assolutamente polivalente che si può tranquillamente usare sul viso, sul corpo e sulle mani anziché utilizzare diciamo così creme diverse. Poi le nostre fatidiche lampade di sale e che diciamo così a parte la loro bellezza esplicano delle azioni benefiche nei confronti degli esseri umani, quindi neutralizzano gli ioni positivi, caricano di energia, combattono le malattie, sicuramente ci sentiremo meglio una volta posizionate nella nostra camera da letto ad esempio, poi purificano l'aria e aiutano veramente a dormire. I nostri articoli da regalo, quindi i saponi naturali, gli articoli per nell'eventualità bomboniere, insomma noi di Bellessere M abbiamo tantissime idee, per cui vi aspettiamo direttamente, venite a trovarci anche per così salutarci in Via De Vito Francesco, numero 6 a Bari.